questo programma è offerto da sparco motorsport dal 1977 gl idraulic componenti oliodinamici amici di rally dreamer amici di sport italia dopo una settimana di assenza durante la quale vi ho lasciati comunque in ottime mani quelli e quelle di elisa mazzucchelli che approfitto per salutare torno a tenervi compagnia dagli studi di milano insieme naturalmente anche a mirco tognarini ciao mirco ciao alice buonasera a tutti voi alice sono felicissimo che tu sia tornata anche se ti vedo un po provata devo essere sincero un pensiero ce l'ho fatto e devo essere sincera si stava particolarmente bene in catar comunque torniamo a parlare di rally manca poco più di una settimana anzi manca una settimana esatta all'inizio della decima edizione del camunia rally una gara che quest'anno sarà fortemente soggetta ad un forte restyling naturalmente a raccontarci tutto torna con noi in studio anche peppe zagami ciao peppe ben ritrovato buonasera a tutti e grazie per l'invito ormai chi ci segue lo sa rally dreamer da quest'anno scende anche in campo scende in prova speciale accanto ai protagonisti prende forma finalmente un progetto particolarmente caro a mirco e rally dreamer tv sosterrà proprio nel corso di questa stagione un giovane equipaggio di talento questo giovane equipaggio è quello composto da nicolò ardizione ciao nicolò ciao a tutti è un piacere essere di nuovo qua e dalla sua navigatrice alissa anziliero ciao alissa benvenuta ciao grazie mille è un piacere essere qua con voi mirco prima di intervistare i nostri ospiti naturalmente mentre noi andiamo in onda questo è possibile perché come sempre registriamo la puntata il nostro appuntamento con qualche giorno di anticipo rispetto alla messa in onda è già andato in scena la prima parte di quella che è la prima tappa del campionato italiano assoluto rally sparco e cioè il rally il ciocco e valle del serchio naturalmente la truppo di rally dreamer sarà operativa nel corso delle prossime ore per raccontare in diretta lo svolgimento della gara ma noi vogliamo celebrare all'inizio del campionato italiano assoluto ed in particolare la gara del ciocco con una breve preview preparata dalla nostra redazione vediamola insieme è tempo di debutto anche per il campionato italiano assoluto di rally che come ogni anno riparte dal rally del ciocco e valle del serchio l'appuntamento toscano giunto alla 47esima edizione è pronto ad ospitare la prima vincente tappa del tricolore 2024 e della coppa rally di settima zona i più di 100 iscritti sono pronti a darsi battaglia sulle 10 prove speciali che caratterizzeranno il percorso 2024 tra le tante novità di questo inizio di stagione a fare scalpore sarà la nuovissima procedura di qualifica che ha debuttato pochi giorni fa alla rally città di foligno per il tricolore terra il solito shakedown viene ora sostituito solo per le vetture di classe rally 2 dalle prove libere e dalla qualifying stage il tracciato di due chilometri della power stage il ciocco ricavato all'interno della tenuta omonima le auto della classe regina si sfideranno in una prova cronometrata di qualifica che permetterà ai primi dieci classificati di scegliere la propria posizione di partenza insomma un venerdì ricco di appuntamenti che verrà condito anche dalle prime tre prove in ordine prova speciale 1 pegnana prova speciale 2 power stage il ciocco già utilizzata il mattino per le qualifiche e prova speciale 3 monteceneri ma sarà sabato 16 che si deciderà il podio della gara si parte subito con la prova speciale 4 la celebre careggine la più lunga e apprezzata del rally per poi spostarsi sulla prova speciale 5 e renaio dove a portarvi in prova saranno le telecamere di rally dreamer in diretta dalle 10 del mattino il programma continua con la prova speciale 6 il ciocco 2 prova speciale 7 puglianella e la ripetizione dell'arenaio per la prova speciale 8 anche quest'ultima in diretta dalle 13 e 45 sui nostri canali social di youtube e facebook l'appuntamento non è finito perché saranno probabilmente le ultime tre prove speciali a determinare il vincitore di questa 47esima edizione il ciocco 3 puglianella 2 careggine 2 chiuderanno così la prima tappa del tricolore 2024 e della copparelli di settima zona non dimenticatevi di seguire le nostre dirette sui canali di youtube e facebook e commentare con mirko ed elisa i passaggi dei vostri piloti preferiti vi aspettiamo e sempre tanta roba immagini meravigliose mirko che ripercorrono un po il passato della gara ma noi dobbiamo concentrarci soprattutto sul presente un presente che possiamo dirlo a gran voce non smette di stupire anche quest'anno ha collezionato davvero tante tante adesioni sono ben 25 gli iscritti al cr sparco e 10 invece gli iscritti al cr due ruote motrici tutti aspettavi un numero simile di adesioni in occasione di adesioni in occasione proprio di quella che è la prima tappa del campionato assoluto devo essere sincero no non me l'aspettavo per tanti motivi anche perché lo sappiamo le autovetture sono a noleggio vengono comunque pagate a chilometro aumentava i chilometraggi delle prove un po di cambiamenti anche in quelli che erano dei regolamenti pensavo che non ci fosse questo grande ritorno di tutti questi grandi personaggi grandi piedoni nel campionato italiano sarà un campionato italiano come mai negli ultimi 8 9 anni ci sarà veramente da divertirci e l'incognita rimane sempre quella andrea crugnola davanti a tutti e le altre in seguire oppure ci sarà un mabellini un simone il buon campedelli che comunque si metteranno vicini o anche altri c'è anche andrei ucci al ciocco poi però sarà solamente in quell'occasione perché sembra che tornerà a fare il terra vedremo vedremo sicuramente sicuramente c'è da dire questo che è un grande veramente grande elenco iscritti ci sono tutti non manca assolutamente nessuno forse anche di più di quanto chiunque si sarebbe potuto aspettare come dici tu giustamente mirco un elenco iscritti naturalmente di livello non mancherà il divertimento e anche rally dreamer tv sarà operativa a partire da domani proprio sulla prova speciale di renaio con la nostra diretta sui canali social al commento naturalmente ci sarete tu ed elisa immancabile hai detto bene noi sabato saremo proprio lì domani per quelli che vorranno vederci saremo sui social di rally dreamer con la diretta negli ultimi tornanti del renaio un renaio spettacolare che il venerdì cioè oggi è stato fatto solamente per la parte alta ma che domani sarà intero e ci sarà veramente da divertirsi perché si vedano di traverso in discesa su quei tornantini strettissimi tutti i manici quelli buoni e noi saremo lì per divertirci e naturalmente come sai benissimo dice ma come sapete tutti voi io farò un gran casino come sempre non vedo l'ora non abbiamo dubbi mirco chiudiamo la parentesi però legata al campionato italiano assoluto rally sparco per aprire la parentesi dedicata invece al camuni a rally insieme a peppe zagami decima edizione in occasione di questi dieci anni come si diceva peppe la gara sarà soggetta ad un importante restyling ci sono parecchie novità tanti anche appuntamenti da mettere in agenda perché possiamo dirlo insomma darfo buario terme si convertirà un po nella capitale dello show tra musica e motori per una gara che quest'anno avrà validità non soltanto all'interno della coppa rally di zona ma anche per la neonata lombardia rally cup che è una serie fortemente voluta dalle acci lombardia da dove cominciamo a raccontare iniziamo innanzitutto da darfo buario terme hai detto bene proprio darfo sarà il luogo dove ci concentriamo e dove verrà la maggior parte dei dei lavori anche logistici come la direzione gara nel centro congressi bellissimo che ci ha messo a disposizione tutta l'amministrazione di darfo e poi ci sarà chiaramente lì e proprio a darfo di fronte al centro congressi il parco assistenza e il riordino nella piazza centrale di piazza inaudi questa è stata la prima delle novità poi per i dieci anni abbiamo voluto diciamo riesumare delle prove speciali storiche che venivano fatte sia per il Val Calonica quando era a due litri che anche quando era campionato europeo il rally mille miglia come la prova di Montecampione e la prova del Val Palot che sono due prove totalmente nuove ma non dimentichiamoci che anche l'astrio fatta lo scorso anno è diversa perché è fatta al contrario quindi cambiano anche tutte le prove speciali esatto tutto nuovo e devo essere sincero sono molto orgoglioso di questo cambiamento anche perché i piloti ci stanno premiando abbiamo superato ad oggi le 105 iscrizioni quindi siamo molto soddisfatti del lavoro svolto fin qui io sono rimasto anche un po' stupito perché per la prima volta conoscendoti hai dovuto investire anche sul nuovo radar era nove anni che non lo facevi nuovo quest'anno ti è toccato rifarlo tutto quindi sono rimasto ho detto è impazzito Peppe che spende i soldi per fare un radar no sto scherzando so benissimo l'evoluzione che date alle vostre gare e che hanno sempre un successo spaventoso diciamo Peppe me l'hai detto prima a quanti siamo di iscritti? siamo 105 iscritti in questo momento ma penso un po' proprio per i dieci anni ho voluto regalare a tutta la Val Camonica un concerto di fine gara con Omar Pedrini che è un idolo bresciano proprio ex leader dei Timoria che verrà ospite nostro e quindi è lì diciamo che ha una doppia valenza quella spettacolare culturale ma anche di benefica perché ci sono due associazioni che chiederemo appunto il contributo perché l'ingresso è totalmente gratuito però chiederemo un contributo per queste due associazioni che hanno a che fare con i ragazzi disabili un'altra bellissima iniziativa ma non siete nuovi a queste iniziative vi state impinando veramente tanto in Val Camonica? ma sì perché la valle ci ha sempre dato grandissima fiducia grande affetto è sempre stata una gara che è cresciuta l'anno scorso mi ricordo 38 R5 quindi è una cosa incredibile di come numeri ma la Val Camonica si respira rally si respira passione si respira amore per il nostro motosport prendiamoci un minuto e mezzo per analizzare passo passo tutte le prove si comincia sabato con quale prova? sabato si inizia con l'astrio che è fondamentalmente l'unione di due prove dello scorso anno quindi la prova SISEM che è quella famosa che passa all'interno del paese di Bienno con la rotonda al contrario verrà unita alla prova astrio dello scorso anno però fatta al contrario quindi è una prova da 15 km veramente adrenalinica veramente bella dove c'è tutto c'è salita, discesa, cambio di ritmo lo stretto, c'è il largo, il veloce, il lento veramente una prova che i veri manici come dici tu possono esprimere il loro talento la loro velocità a seguire? viene fatta due volte l'astrio una volta di giorno e una volta di notte e poi la domenica viene fatta la prova andiamo nella Val Camonica Bassa sul lago di Seo quindi sulla Monte Campione ed è una prova da 10 km che è sede storica della salita appunto ex gara di campionato europeo ex gara di campionato italiano la Monte Campione e poi la Val Palotte abbiamo voluto dare questo nome in omaggio alla valle che ci ospita questa prova che ha bisogno ma è una prova storica chiamata anche Colle San Zeno della Mille Miglia quando era campionato europeo da 35 km e questa è la prima parte riparte con la seconda prova della terza zona ma comunque per quest'anno ci sono ancora tante gare in ordine da mettere in fila per i fratelli Zagami vogliamo le incarle velocemente? Sì ecco noi sapete che tutti quanti che teniamo particolarmente a Rally Valle Ossolane quest'anno sarà la sessantesima edizione quindi ci sarà veramente un rally incredibile diamo una chicca diamo uno scoop visto che siamo qua a Rally Dreamer verrà fatta una prova spettacolo a Druogno e in più avremo il massimo del chilometraggio per un rally CRZ questo al 15 e 16 di giugno poi avremo la nostra gara di tir del trofeo Italia Rally che è appunto il rally Lana 37esima edizione 8 settembre quindi viene spostato un po' prima il rally del Rubinetto 27 ottobre Rally Due Laghi sempre come sede sarà Baveno e poi il rally di Taormina per chiudere la nostra diciamo importante stagione unica certezza Peppe che comunque anche la troupe di Rally Dreamer TV non mancherà sarà presente trasmettendo in diretta lo svolgimento della gara e questo mi porta a farti una domanda che in realtà è un tema abbastanza ricorrente ma mai come quest'anno ci sembra doveroso sottolinearlo per un organizzatore quanto è importante trasmettere in diretta sul web la propria gara con la visibilità che ne deriva naturalmente non soltanto per la macchina organizzativa ma per tutti gli equipaggi che ne prendono parte e anche per il territorio di conseguenza ma guarda ci sono due considerazioni da fare la prima è che la collaborazione rally Dreamer è nata in un momento di emergenza e di esigenza mi ricordo che era il 2020 quando le prove non si potevano non si poteva far accedere la gente quindi chiaramente abbiamo insieme al Mirco abbiamo fatto una scommessa e una scommessa è stata una scommessa vinta perché avevamo migliaia di visualizzazioni è stato molto bello poter portare anche in un periodo triste come il 2020 portare un po' di allegria di spensatezza nelle loro case poi non ti nascondo che noi organizzatori è un veicolo promozionale importantissimo perché noi grazie alle immagini grazie anche ai servizi pre pre gara che fate veicoliamo le informazioni e diamo diciamo un punto di vista anche diverso del territorio che ci ospita quindi chiaramente noi siamo molto gradi a rally Dreamer e a tutte chiaramente le testate che ci supportano perché senza chiaramente supporto mediatico le gare farebbero fatica ad esistere e quindi di conseguenza il rapporto con Mirko è sempre andato in accordo poi a parte l'amicizia che ci lega però è fondamentale per noi organizzatori avere un punto così importante di vista mediatico Mirko apro rapidamente una parentesi fuori scaletta perché le parole di Peppe e la modalità con cui hanno scelto naturalmente come macchina organizzativa di modificare di fare questo restyling all'interno del Camuni rally ci porta a toccare un altro tema importantissimo di cui abbiamo già parlato cioè la necessità un po' di rimodernare i rally creando sinergia tra spettacolo sicuramente e l'adrenalina dei motori indubbiamente sì è quello che stiamo cercando di fare da anni ma credo che piano piano si prenda questa strada anche la federazione se ne è accorta e piano piano ci incaleneremo tutti nella solita via e arriveremo a ottenere questo risultato ce lo auguriamo come si diceva in quest'anno anche il rally Dreamer TV scende in prova speciale accanto ai protagonisti e dopo aver annunciato la collaborazione con l'Ion Team all'interno del campionato due ruote motrici dove sarà Gian Andrea Pisani a contendersi il titolo con gli altri protagonisti finalmente Mirko prende forma concreta anche quello che era un tuo grande desiderio un tuo grande sogno cioè quello di poter supportare un giovane equipaggio di talento sì è quello che volevamo fare dall'inizio ci siamo messi in testa noi di rally Dreamer di poter dare una mano a dei giovani come già altri hanno fatto ci ha pensato anche la federazione noi naturalmente lo faremo pian piano partendo dal basso proprio dal CRZ e lo faremo con un equipaggio giovanissimo che vi è stato appena presentato lo avevamo detto anno scorso a Rubinetto è stata una prova generale questa volta siamo pronti siamo pronti a far partire l'equipaggio per il settima zona alla conquista di una finale che potrà arrivare o meno ma che comunque sarà affrontata al massimo della professionalità a partire dal rally del trofeo Maremma Nicolò insomma quest'anno non è più un sogno come quando ti sedevi al simulatore esercitandoti e avevi dichiarato in diverse interviste sì mi piacerebbe davvero sogno di potermi sedere anche all'interno dell'abitacolo di una vettura da rally da qualche tempo non è più un sogno ma quest'anno in particolare Mirko ti supporterà appunto all'interno della settima zona del CRZ ma dimmi che cosa hai pensato la prima volta quando ti ha contattato l'anno scorso in occasione del rally del Rubinetto e poi quest'anno dandoti la possibilità appunto di disputare la settima zona ma a primo impatto non ci volevo credere perché alla fine è il sogno un po' di tutti i piloti prendere parte a un progetto del genere e infatti ci tengo a ringraziare tantissimo Mirko e tutte le persone che si sono impegnate per aiutarmi e non vedo l'ora di iniziare e sono contenta di avere al mio fianco Alissa perché è una ragazza con testa molto simile a me quindi sicuramente ci troveremo bene in macchina e al Rubinetto è andata molto bene e quindi direi che ci sono tutti i presupposti per poter far bene anche quest'anno iniziando appunto dal CRZ Alissa passo la palla anche a te più o meno la domanda è la stessa prima di iniziare a registrare mi raccontavi un aneddoto come quando hai saputo di poter navigare Nicolò nel corso delle sei gare incluse nella settima zona del CRZ Beh io e Nicolò ci conosciamo da quest'estate siamo prima di tutto amici e poi mi ha contattato oramai due settimane fa io stavo partecipando al rally Vallate e Aretine nello storico e mi è arrivato un suo messaggio in cui mi proponeva questo nuovo progetto molto allettante infatti ci siamo poi subito trovati e abbiamo concluso questo nostro accordo e sono davvero contenta di fare questa nuova esperienza in questo campo Alissa intanto la prima cosa che mi viene da chiederti è tu hai sempre avuto esperienza fino adesso nello storico l'hai appena detto alle Valle Aretine fra l'altro stavi guidando se non erro o stavi navigando? No assolutamente stavo guidando ho iniziato il CIRAS quest'anno alla guida infatti cosa pensi di trovare cosa scoprirai nel moderno che cosa ti aspetti dai rally moderni che ancora non conosci? Non lo so è tutta una sorpresa per me ho accettato questa proposta proprio per quello per spostarmi comunque anche nel mondo dei moderni per fare esperienza prima di tutto e soprattutto perché comunque essendo giovane volevo avere un equipaggio della mia stessa età e quindi non so cosa aspettarmi ma di sicuro di divertirmi tanto e di scoprire questo mio nuovo mondo ci sarà sicuramente da seguire delle regole delle regole importanti una tra queste sarà quello proprio di stare molto fedeli a quelle che è il regolamento della federazione quindi anche per quanto riguarda quelle che sono le ricognizioni vogliamo che voi siate lontani da casa proprio perché dovete imparare a provare poco e capire bene come si estendono le note e bisogna seguirle tantissimo è un po' quello che è una scuola che vogliamo fare noi a modo nostro come al solito nel modo di Rally Dreamer perché a differenza di quelle che è l'impronta con i vari coach non ci saranno coach non ci saranno scuole particolari ma ci sarà solamente esperienza e questo credo che Nicolò l'abbia capito ma soprattutto credo anche che stare tanto al simulatore gli ha fatto veramente bene e soprattutto è un'altra cosa importante partiamo proprio con una piccolina con una Rally 5 che fra l'altro tu Nicolò hai già tranquillamente conosciuto a Rubinetto come ti sembra il primo impatto con l'autovettura sicuramente è una vettura completamente diversa a cui ero abituato soprattutto per il cambio sequenziale ma ho trovato subito un gran feeling e questo forse mi ha aiutato un sacco il simulatore perché al simulatore si cambia si passa dalla S4 alla R5 alla VRC e ti devi subito adattare infatti mi sono adattato immediatamente alla macchina e logicamente un conto abituarsi un conto poi è prenderci feeling e andare forte però ho un'intera stagione per poter far bene e prendere sempre più feeling con la macchina e non vedo l'ora di provare anche la Noa Clio Rally 5 versione 2024 con alcune chicche aerodinamiche sarà interessante Nicola una domanda al di là di quello che è il feeling con la vettura avete già iniziato a lavorare in sintonia tu e Alissa in preparazione all'inizio della zona del CRZ sì abbiamo iniziato intanto ci siamo già adocchiati un po' le prove speciali del Maremma quindi un'idea già ce l'abbiamo poi nelle prossime settimane faremo tanta pratica per avere più feeling in macchina quindi sì diciamo che ci lavoreremo un sacco prima di iniziare Alissa il tuo ruolo sarà molto importante perché dovrai tenerlo calmo quando è da star calmi e dovrai invece fare in modo di stimolarlo un po' di più quando ci sarà da andare un po' più forte da mettersi in gioco sei pronta? ma su quel lato lì sì sono diciamo sicura avendo comunque fatto già esperienza con papà alla guida diciamo che sono abbastanza tranquilla poi conosco bene Nicolò quindi in prova speciale quando ci sarà da accelerare cercherò di spronarlo e contrario invece quando ci sarà da tenere un po' più di testa cercherò di non rallentarlo ma di non fare errori Mirko il counter ci ricorda purtroppo che siamo quasi giunti in chiusura ma prima di salutare tutti i nostri telespettatori e di dare anche il saluto ai nostri ospiti vogliamo ricordare l'appuntamento di domani sulle prove del ciocco sì domani mi raccomando in diretta si parte molto presto alle 10.10 siamo già in diretta e poi il secondo giro invece vado a leggere sarà intorno alle 13.50 mi raccomando ci saremo noi ci sarà anche la nostra Elisa Mazzucchelli che sarò costretto come al solito a sopportare per tutto il giorno ma mi fa anche quasi piacere fino a un certo punto naturalmente e allora è arrivato il momento dei saluti è arrivato il momento di salutarci comincio proprio dai nostri ospiti grazie ad Alisa Anziliero grazie a Nicolo Ardizione ed un grande in bocca al lupo a voi per la stagione ragazzi grazie mille grazie mille e poi come sempre un grazie speciale va anche al nostro amico Peppe Zagami per essere tornato a raccontarci del decimo Camuniarelli grazie a voi una ultima cosa Mirko per me metti una questo ragazzo qua è licenziato ACVCO dove io sono presidente quindi io tifo per Ardizione tifiamo tutti per lui se farà il bravo gli faremo fare anche il rubinetto te lo prometto ci mancherebbe e allora sta a me salutare come al solito io vi ringrazio per tutto il successo che ci state dando di ascolti della puntata ma anche sui social vi ricordo di mettere sempre le campanelle iscriverti ai canali tutto quello che volete fare voi lo sapete fare meglio di me indubbiamente e allora per tutti voi l'appuntamento è domani Rally Dreamer cacca roba e da parte mia come sempre un buon proseguimento di serata ma sempre qui sul canale 60 questo programma è stato offerto da cacca roba cacca roba